Le guerre anglo-boere, note anche come guerre boere, furono due conflitti significativi che si svolsero in Sudafrica tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Queste guerre opposero l'impero britannico ai boeri, coloni di origine olandese, per il controllo del territorio sudafricano. La prima guerra anglo-boera, 1880-1881, la prima guerra scoppiò a seguito della politica di annessione del Transvaal da parte dell'impero britannico nel 1877. I boeri, desiderosi di mantenere la loro autonomia e il controllo sulle loro terre, si ribellarono contro l'occupazione britannica. Il conflitto culminò nella battaglia di Mayubail, dove i boeri, vestiti con abiti color cacchi che si confondevano con l'ambiente circostante, riuscirono a infliggere pesanti perdite agli inglesi, che indossavano uniformi rosso brillante. La vittoria boera portò al riconoscimento dell'autogoverno del Transvaal sotto la supervisione teorica britannica. La seconda guerra anglo-boera, 1899-1902. La scoperta dell'oro nel Transvaal nel 1885 attirò un gran numero di coloni britannici, gli Wittlanders, che furono trattati con disprezzo dai boeri. Le tensioni crebbero quando Cecil Rhodes sponsorizzò un fallito colpo di Stato, noto come la spedizione di Jameson, che fu usato come pretesto dai britannici per giustificare l'accumulo di forze militari nella regione. Inoltre, c'era la preoccupazione britannica riguardo un possibile legame tra il Transvaal dell'Africa tedesca del sud-ovest, che avrebbe potuto rappresentare una minaccia data l'imminente tensione con l'impero tedesco. I boeri, guidati dal presidente Paul Kruger, lanciarono un attacco preventivo contro le colonie britanniche del Capo e del Natal, dando inizio alla guerra durante la seconda guerra anglo-boera. I britannici risposero con una campagna di terra bruciata e l'istituzione di campi di concentramento, dove migliaia di civili boeri furono internati e molti morirono. Alla fine, la superiorità numerica e tecnologica britannica prevalse, e i boeri furono costretti alla resa. Con la firma del Trattato di Verini-Jing, la guerra si concluse con la vittoria britannica e l'annessione delle repubbliche boere alla colonia del Capo Questi. Conflitti ebbero un impatto profondo sulla storia del Sudafrica, portando alla fine dell'indipendenza boere all'ascesa della supremazia britannica nella regione. Le guerre anglo-boere sono ricordate per la loro brutalità e per le tattiche di guerriglia utilizzate dai boeri, che influenzarono le future strategie militari. Inoltre, queste guerre posero le basi per la successiva politica di segregazione razziale in Sudafrica, nota come Aparteld, che avrebbe dominato il paese per gran parte del XX secolo. Le guerre anglo-boere hanno avuto conseguenze significative e durature per il Sudafrica e la sua popolazione. Ecco alcune delle principali ripercussioni a lungo termine. Impatto sociale. La guerra ha causato una grande perdita di vite umane, con circa 22.000 soldati britannici e 25.000 civili boeri morti. Le pratiche brutali impiegate durante il conflitto, come la distruzione di fattorie e l'uso dei campi di concentramento, hanno lasciato cicatrici profonde nella società sudafricana. La comunità boera ha subito un duro colpo, con la perdita di una generazione di giovani e la distruzione delle loro basi economiche e sociali impatto economico. La guerra ha devastato l'economia delle repubbliche boere, con la distruzione di fattorie e bestiame che ha eliminato le fondamenta dell'economia agraria boerel. Controllo britannico sulle ricche miniere d'oro e di diamanti ha rafforzato l'influenza economica dell'impero britannico nella regione impatto politico. La fine delle repubbliche boere e l'annessione al dominio britannico hanno segnato la fine dell'indipendenza boerala. Supremazia britannica consolidata in Sudafrica ha portato alla creazione dell'Unione sudafricana nel 1910. Un precursore dell'attuale Repubblica del Sudafrica impatto culturale. La guerra ha influenzato l'identità nazionale boera, rafforzando il senso di appartenenza e resistenza contro l'oppressione esterna, le tattiche di guerriglia e la resistenza boera sono diventate parte dell'orgoglio nazionale e della memoria collettiva sudafricana. Impatto internazionale. Le condizioni disumane dei campi di concentramento e la brutalità della guerra hanno suscitato indignazione. Internazionale hanno influenzato l'opinione pubblica mondiale nei confronti dell'impero britannico in sintesi. Le guerre anglo-boere hanno lasciato un'eredità complessa, contribuendo a plasmare il futuro politico, sociale ed economico del Sudafrica. Hanno anche avuto un impatto sulla percezione internazionale del colonialismo e delle politiche imperialiste.